Siamo alla pagina della cultura, parliamo di libri perché da giovedì prende il via la fiera internazionale del libro di Torino e tra i tanti autori che naturalmente ci saranno a Torino ce n'è anche uno che veramente con una punta d'orgoglio vi vado a presentare perché qui accanto a me, ovvero Damiano Celestini, voce inconfondibile anche della nostra radio. Ciao Damiano, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, voce inconfondibile, bisogna vedere se è piacevole o meno, diciamo. Questo lo giudicano gli ascoltatori ovviamente. Senti però intanto ci saranno anche dei lettori che invece dovranno giudicare il tuo cronaca di un legame di sangue che verrà presentato appunto a questo festival internazionale di Torino, immagino che sia una bella soddisfazione. Beh decisamente sì, è una bella sensazione, non so ancora bene cosa mi aspetterà però ecco diciamo che vi do qualche nota, venerdì ci sarà la presentazione alle ore 14, la sala è quella che si chiama Piazza Italia, Lingotto, famosa sede storica torinese. L'incontro si intitola La scrittura in prospettiva incipit d'autore e oltre a me ci saranno anche altri scrittori di prospettiva editrice, ci sono Massimo Lerose, Eva Montecarlo e Normanna Albertini, Vittorio Graziosi e poi ci sarà insomma anche Andrea Giannassi che modererà insomma che è l'editore. Staremo lì a cercare di invogliare la gente a leggerci sostanzialmente, ecco mettiamola così. Anche perché insomma il titolo è di quelli importanti, insomma la scrittura in prospettiva, incipit d'autore. Anche qui bisogna vedere quale sia la mia prospettiva però ecco diciamo io ce l'ho messa tutta, il libro sembra che a qualcuno sia piaciuto quindi già di per sé mi fa piacere, ecco mettiamola così insomma. Senti che cosa direte, di che cosa parlerete ovviamente in questo incontro? Soprattutto ovviamente per quello che riguarda il tuo libro, che cosa cercherai di far capire rispetto all'opera che tu hai scritto? Beh innanzitutto credo che nel senso mi preparerò anche le domande che mi faranno, io credo che la prima sarà ma chi te l'ha fatto fare a tu che scrivi di sport andare a scrivere un giallo? Quindi sostanzialmente è quella che un po' tutti mi fanno che tutti si sono trovati spiazzati, dici vabbè che la palla a nuoto è cruento come gioco però voglio dire da qui a scriverci un giallo ce ne vuole, insomma quindi probabilmente sarà quello. No, credo che forse uno dei temi che sarà dibattuti parlando di Cronaca due legame di sangue sarà quello, forse quello del razzismo perché viviamo in un momento in cui se ne parla sempre più spesso e io dico sempre che nel momento in cui noi giornalisti arriviamo a parlare di un fenomeno, vuol dire che è già troppo tardi nel senso che vuol dire che probabilmente arriviamo che il fenomeno già è abbondantemente in avanti quindi credo che mi immagino che parlando del romanzo sia quello e poi ovviamente anche dei miei tentativi di addentrarmi nel giallo che è un genere a cui mi sono sempre appassionato come lettore e ci ho provato da scrittore. Senti, la prossima opera? La prossima opera per adesso è la tesi di laurea. Anche quello, c'è un bel giallo attorno a quello che bisogna vedere quando la finisco e come però diciamo che per adesso è la tesi di laurea poi però c'ho un po' di idee, qualcosa che ho iniziato insomma vediamo un po' come va. Bene, grazie Damiano, in bocca al lupo per Torino. Grazie a te Greg.